Ciao! Come facciamo ormai da un po' di tempo, ogni due mesi riprendiamo un vecchio episodio del mio podcast per fare insieme tanti nuovi esercizi e per mettere alla prova le vostre capacità di comprensione e la conoscenza del vocabolario e di qualche argomento di grammatica. Oggi rivedremo per l'occasione questo episodio del mio podcast. Se non l'avete ancora sentito, troverete il link qui. E se volete scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi completi relativi a questo episodio, potete farlo andando su italianglot.com. Oggi ovviamente vi presenterò solo un piccolo assaggio per ogni esercizio. Nel video con l'attività di revisione relativa al secondo episodio del mio podcast vi ho anche spiegato perché tutti questi esercizi sono così efficaci per migliorare il vostro italiano e vi ho anche presentato tutti i principi di linguistica su cui mi sono basato per prepararli. Se non avete visto quel video trovate sempre il link qui. Cominciamo! Nel primo esercizio bisogna completare con le parole giuste un testo tratto dalla trascrizione dell'episodio. Provate a trovare la parola giusta per completare la prima frase di questo testo. Ovviamente nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com troverete il testo completo. In questo esercizio di solito vi rendo le cose un pochino più difficili. perché tra le opzioni non inserisco sempre le parole del testo originale che trovate nell'episodio del podcast ma inserisco nuove parole che pure possono andare bene in quel contesto perché hanno un significato simile. In questo modo potete ampliare il vostro vocabolario imparando parole nuove o tutte le alternative che potete usare al posto di un certo termine. Di quei cartoni animati che sono arrivati in Italia da altri paesi. Continuiamo con il secondo esercizio che si basa sullo stesso principio. Dovrete cioè completare una frase, stavolta non tratta dal testo dell'episodio del podcast ma inventata da me. E in genere con questo esercizio cerco di portare la vostra attenzione su tipiche espressioni e modi di dire dell'italiano, su determinati tempi verbali e così via. I prossimi esercizi servono a portare la vostra attenzione sul significato delle parole di cui in linguistica si occupa la cosiddetta semantica. Provate quindi ad associare la parola alla definizione giusta. La sigla di BIA era un vero scioglilingua perché cominciava con una serie di sillabe senza significato che iniziavano tutte con la lettera B. In questo esercizio invece dovete abbinare la parola all'immagine giusta. Andy un giorno conosce su una collina un misterioso ragazzo che suona la corna musa. Nel prossimo esercizio dovete associare uno dei verbi che abbiamo usato nell'episodio con la parola giusta. Andy va a vivere a casa della famiglia Legan dove la perfida figlia Irisa e suo fratello Neil le fanno continuamente dispetti. Nel prossimo esercizio dovete trovare quale verbo corrisponde a due definizioni perché un verbo può avere due o più significati e poi dovete usare quel verbo nel tempo giusto per completare delle frasi. Con il prossimo esercizio restiamo nell'ambito della semantica che come abbiamo detto si occupa del significato delle parole e in particolare ci concentreremo su due fenomeni la sinonimia e l'antonimia. Esistono cioè parole con significato simile i sinonimi e parole con significato contrario opposto gli antonimi. In questo esercizio dovrete trovare il sinonimo e l'antonimo giusto della parola e poi dovrete completare delle frasi per capire in quale contesto possiamo usare ognuna di queste parole. Il prossimo esercizio è puramente grammaticale ma lo inserisco in ogni attività che preparo per voi perché è un argomento che a quanto ho capito da quello che mi dite crea grandi difficoltà agli studenti di italiano le preposizioni. Quali preposizioni dobbiamo utilizzare con certi verbi o in generale con certe parole? Spesso è difficile capirlo. Per questo l'esercizio che farete adesso è pensato apposta per voi per aiutarvi a familiarizzare con le maledette preposizioni. L'ultimo esercizio è dedicato ogni volta a un diverso argomento di grammatica. In questo episodio abbiamo trovato questa frase qui che contiene proprio l'argomento di grammatica del prossimo esercizio che dovrete fare e di cui vi ho dato diverse spiegazioni nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com Concludiamo con un esercizio di comprensione. Ascoltatevi, un pezzettino dell'episodio e poi rispondete alla domanda. Tenete presente che nel foglio di lavoro che potete scaricare da italianglot.com inserisco di solito più di un test di comprensione a seconda del tipo di episodio. Allora cominciamo con Candy Candy. Così si intitolava il cartone animato giapponese che parlava di una bambina dai capelli ricci e biondi di nome Candy. Ovviamente su italianglot.com troverete la versione completa di questi esercizi di cui oggi vi ho dato solo un piccolo assaggio. Ma un altro segreto per migliorare il vostro italiano è di applicare il cosiddetto metodo naturale di cui vi ho parlato in una serie di video che troverete sul mio canale YouTube. Con il metodo naturale dobbiamo ascoltare più e più volte lo stesso episodio del podcast, uno stesso video e così via. In questo modo memorizzerete automaticamente, naturalmente, parole, espressioni e la struttura corretta delle frasi. Ma perché sia efficace il metodo naturale dobbiamo capire bene il significato di quello che stiamo ascoltando e tutti questi esercizi che abbiamo visto oggi servono proprio a questo, ad aiutarvi a capire bene il contenuto del testo, ad aiutarvi a focalizzarvi sul vocabolario e in che modo, in quale contesto possiamo usarlo. Solo così, una volta che avrete tutto chiaro, potete poi continuare ad ascoltare più e più volte l'episodio e ad assorbire l'italiano in modo automatico e naturale. Andate quindi su italianglot.com per scaricare tutto il materiale che preparo per voi. Trascrizioni, vocabolario, esercizi, corsi interattivi e tanto altro ancora. E se avete trovato utile questo video mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!